Amici di TV Vialar, buonasera a tutti e ben trovati dal Baguetti Stadium dove non appena si è concluso l'Australian Open il maestro Fabio ha deciso di non dover traccheggiare oltre e di prendere a allenarsi sul serio in vista della imminente stagione sulla terra rossa per cui oggi lo sparring partner di tutto il rilevo è la maestra Francesca ottima la seconda categoria siamo già alle fasi del conclusive del set di allenamento vediamo un po' doppio fallo, lei si è innervosita intanto abbiamo Ciabattini, Ciabattini saluta gli amici di Vialar c'è anche Rocco, vediamo un po', tanta potenza ma poco controllo la bionda atleta si innervosisce perché non vuole rendere facile, oh che bella peccata risposta eccezionale, peccato che il servizio era fuori eh però anche questa non scherza risposta a tutto braccio di dritto che il maestro Fabio fa fatica a contenere, senti poi quando è che passa di livello il maestro Fabio che fa un po' di allenamento con te, Ciabatta? eh sì, deve aspettare un pochetto ancora la risposta, attenzione si salva con un pallonetto molto preciso e costringe la maestra Francesca ad arretrare, palla corta, palla corta, ben giocata grande scambio, grande scambio, peccato, grazie Fabio eh insomma Ciabatta, l'avversario è di livello eh mica top player Palla corta è molto corta, eh, particolarmente corta comunque è un panorama interessante questo pomeriggio ci abbatte intanto arriva qui il nostro magico kelvin sul campo 2 ci sono bernardino celentano l'architetto giannuzzi e sul centrale il match più clou di tutti e cioè super pico contro fabio lotti eccolo qua allora abbiamo visto che facevate fatica a prendere le righe due gioco marco facevate fatica a tirare dentro le righe ma era un gioco attirare a chi tirava più forte ma si sono dimenticati che c'erano anche le righe attenzione la messa francesca insiste a picchiare sul rovescio di fabio che però si difende con sapienza tattica e al momento opportuno riesce a sfruttare una volei imprecisa per passare chirurgicamente l'atleta bionda alla nostra destra 4 a 3 per fabio e osserva la situazione è doppio fallo esagera esagera chiede troppo vuole incidere troppo con il servizio forse ha paura della risposta per cui forza la seconda e doppio fallo non trova la prima parte da sotto pala corta attenzione grande 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 scambio scambio che ricordava i momenti migliori di uno spot 100 di qualche tempo fa con un servizio dal basso la prima non arriva neanche questa volta la seconda molto aggressiva fabio risponde in controllo ma la corta ancora è qui è un po esagerata però fanno un po a chi regala di più fanno a chi regala di più e fabio si porta a casa il punto del 5 a 3 attenzione break break ride ride quindi 5 a 3 fabio al servizio per il set tanto i fanciulli crescono perché insomma vedere bernardo celentano affrontare l'architetto giannuzzi vuol dire che comunque il nostro bernie sta scalando le classifiche vediamo un po e troppa potenza troppa potenza vuole fare troppo male per il controllo 15 0 qui la tra la tra in inganno un po il rimbalzo della palla 3 a 0 tanto è una piacevolissima giornata di gennaio si accendono le luci e questa è forse pizzica forse pizzica chi lo sa e anche qui troppa potenza e poco controllo quindi 40 15 2 set point grande risposta incrociata è sulla riga che questa è però questo è uno smash alla pietro santo che finisce fuori di 6 metri comunque grande grande tennis abbiamo visto ci abbatta adesso gli atleti si fermano un secondo a bere penso o vanno avanti allora ci abbatta tu sei infortunato se no eri tu al posto della messa francesca no? no no io gioco ah giochi? ah no sto ginocchio malandrato però non ti impedisce io sto a posto ah sei sano come un pesce? grande e con chi giochi? che ne so? un'oretta ah un'oretta solo così vabbè questi riprendono per cui è romena romena questa risposta lungolinea è molto attenzione molto bella questa eh sì risposta lungolinea della maestra francesca è molto bella quando entra molto potente forse un po' ripetuta nel senso che poi il maestro fabio adesso se l'aspetta che gli arrivi una risposta lì eh questo è bello ragazzi è un vincente lungolinea di dritto da fare invidia a Sinner senti quando imparo il rumeno te lo dico sarà forza sarà forza ciabatta guardate questo è il cane del grandissimo borse non si muove dal suo padrone c'è l'ombra troppi gratuiti troppi gratuiti ma guarda che mica te lo perdi eh mica te lo perdi eh mica te lo perdi mica te lo perdi te lo volevi bene sti cazzo madonna che freddo no non fa freddo no mica freddo sta fermo così sì eh la giocante anche questa è lunga eh qui c'è un po' troppo voglia di distruggere il mondo così è così come è così? davanti eccola peccato questo era molto bello ciao questa volta risponde incrociato molto bello peccato fuori veramente di un dito bellissimo è bellissimo perderà un sacco di pelo ancora è bellissimo eh ma lui è bello che gli è fredda che gli è fredda che gli è fredda sono bellissimi i cani sono bellissimi i cani perché sappi c'è il doppio di cani mio è il doppio di cani mio questo fabio fa il pugnetto e qui non c'è pietà per nessuno quando c'è una rete a dividersi dall'altra parte ci può essere chiunque e non ce l'ho dall'altra parte ci può essere chiunque ma va va disintegrato giusto ciabatta non c'è da guardare in faccia all'avversario dall'altra parte della rete no? no ma è esattamente comunque amici di tv vialar la serata è piacevole là in fondo si intravede il cupolone che si sta arrosando io e il ciabatta un saluto ragazzi e Roccolino vi salutiamo e diamo appuntamento alla prossima ciao a tutti